Ciao a tutti ragazzi, sono Marco Angelini, atleta a 7 bat per chilo. Volevo raccontarvi la mia esperienza che ho avuto nell'ultima stagione e ancora in corso. Io mi sono trovato ad ottobre dell'anno scorso dove ero rimasto totalmente deluso da me stesso per via delle proprie aspettative e di aver conosciuto anche persone che non mi avevano permesso di esprimermi al meglio portandomi su strade sbagliate che non mi potevano allenare come mi sto allenando ora con Stefano e Gerardo quindi in maniera scientifica, dove il metodo scientifico è posto davanti a tutto e quindi ci ho guadagnato anche in salute. Inoltre ho anche perso bene 8 kg e questo ha avuto una grossa ripercussione sulle mie performance e inoltre mi ha permesso anche di prendere molta protostima in me e mi ha reso davvero una persona molto migliore. Consiglio 7 bath per chilo a tutti, gli amatori, perché è una piattaforma molto interattiva che permette a tutti di tirare fuori il meglio da se stessi. Ciao a tutti e ora è tempo di allenarsi. Ciao! Ciao!